il torino la pareggia in extremis con la doppietta di zazza una partita veramente bella al vigorito veramente fin dal primo tempo il gol annullato a glick itzo prende una testata comunque una botta da barba e rimane a terra poi gol annullato giustamente al benevento sul tocco di mano di glick e poi sempre il difensore appunto ex torino anche polacco che la tocca di mano prima del palone entri poi il benevento va in vantaggio sul calcio di rigore con viola che è stata una scommessa oggi buttata da inzaghi non stava molto bene a condizione fisica era da molto e non giova eppure ha fatto col suo rigore spiazza sirgo 1 a 0 benevento poi il benevento nel secondo tempo la raddoppia con la padula che finalmente si sblocca fa il 2 a 0 poi subito dopo due minuti single crossa un pallone pazzesco per zazza che di testa purga montipò e poi ragazzi lasciando me lo dire ma solo torino a parte un'occasione di etemaia all'ottantasettesimo torino che li vengono annullati ben due gol quello di zazza da annullare ma anche quello di belotti quello di zazza sul cui su cui velotti la pesa di mano però grande partita di zazza perché ha fatto doppietta e stava meglio di belotti anche se belotti ha fatto un assist pazzesco per il secondo gol di zazza io direi che il pareggio ci può anche stare poi rincona all'ultimo secondo ragazzi ultima occasione ha andato vicinissimo al gol ma ragazzi ma quanto è forte single quanto è forte questo giovane talento ivoriano cioè ditemelo benevento che però è un po' due punti buttati perché ce l'aveva in mano ormai la partita perché ora il torino a 14 cagliari 14 genoa 15 poi c'è l'udinese a 17 mi sembra la fiorentina 18 lo spezia 18 invece il benevento se vinceva andava a 24 invece a 22 ragazzi però è fuori da questa lotta salvezza però bella partita al vigorito ma a me mi rimarranno impresso veramente per tutto la fine del campionato singo che è pazzesco un gran rientro di zazza perché ha fatto doppietta belotti così e così ma il problema del torino ragazzi è la difesa perché ha preso anche due gol oggi ormai il torino come clean sheet l'ha fatto veramente poi l'ha fatto con lo spezia poca roba veramente il torino e basta perché poi non mi ricordo altri clean sheet del toro quello a parma però veramente pochi per il torino ma singo zazza veramente tanta roba mentre nel benevento un grandissimo la padula e anche molto bene il pacco difensivo perché comunque glick ha giocato bene però ho visto molto bene viola io sinceramente quindi del benevento dico viola e la padula del torino dico singo e zazza noi ci vediamo domani con i tre post partita roma spezia milan atalanta perché poi c'è contemporanea l'ordinese inter ma farò milan atalanta e poi troveremo la partita di un quarto alle nove di fiorentina crotone speriamo bene poi ci vedremo anche domenica ciao a tutti